è tempo di tornare rama tornare su youtube capriola mortale salve a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovissimo video sai la gente è strana piena di mosche qua dentro con chi devo convivere con chi devo convivere con me stesso non so se hai capito ma c'è una porta come ai vecchi tempi capito sono in spagna in cima alla spagna però ho trovato comunque un posto con una postazione identica al passato c'è la porta bello 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 tanti ricordi e iniziamo proprio subito che video a caso dove disegno e comincio a dire le stronzate ma non vi mancava questo profumino di freschezza eh? lo so lo so sono veramente il più grande youtuber che l'italia abbia mai visto ora naturalizzato in spagna non so neanche cosa vuol dire naturalizzato però è una parola divertente e quindi niente godiamoci godiamoci insieme questo video e va in tutta la sua bellezza perché qui si disegna solo e va va bene? perché l'originalità ci fa schifo al cazzo sei un vero artista come me per esempio fai sempre lo stesso soggetto fai sempre lo stesso soggetto sto di una cazzata no? quindi godiamoci insieme questo alla fine è questo canale speed drawing in compagnia godiamoci insieme per la terza volta questo bellissimo speed drawing di Eva ma guarda guarda che maestria proprio che talento mamma mia sto video è più divertente no fa ride eh? madre mia fa riflettere perché è proprio bello è così bello che mi fa venire voglia di disegnare disegnare ma come fai da guardar sti video? che palle! ma andiamo a farci un giro no? che è molto più divertente maia lo capisco eh? anche tu hai visto un video tiramaticì che potrei dire il costume articolare andiamo a salutare un po' dei asini va? guardaci vostra dove vi siete nascosti Rocco è figo perché c'è il nome italiano tipo a voi Lusia l'asino più pericoloso che voi possiate immaginare eh Lusia eh eh sei un pericolo pubblico Lusia eh io e Lusia ci amiamo Mini Maggie che è la figlia di Cucca eh Dushon che c'è un pisello grosso così eh questa è Shana ok Shana con la X e questa è Franca sono praticamente uguali perché una è la madre e una è la figlia ma non mi ricordo chi però Shana ha gli occhi belli Franca ha gli occhi tutti rovinati perché è sensibile alle mosche Aila dai lunghi capelli e poi c'è Lua l'asino del mistero tutto nero che se t'avvicini scappa perché c'ha paura di tutto e da quella parte ci abbiamo pure i cavalli e due pony ecco Jenny che ha le zampe davanti nere non lo so se è buona quindi non voglio avvicinarmi troppo e poi c'è Jack che ha tutte le zampe bianche e poi abbiamo in ordine Luna Mara Mr. Mara e Finn che tira i calci potentissimi ecco a voi il trio cavallo oh questi saranno pure vecchi però sono quelli che si nascondono di più ecco Mish l'asino più bello di Paraiso Burri Camilla non so perché a me sembra così vecchia Burri che c'è il collo tutto quanto sciolto da un lato oh Cucca la mamma di Mini Maggie Lola e Dagnese inseparabili e questi erano quasi tutti gli animali del paradiso e Agnese e Lola mamma mia se sta a biocallola ciao Maggie ma quanto è bella Maggie eh sì maggio di Dios guarda che labbra incredibili questo è l'ultimo giorno che vedrò Maggie quindi ho voglia di passare un po' di tempo con lei guarda da questa angolazione pare una giraffa una giraffa affamata in cerca di foglie e io sembro un albero Maggie mangiami sono un albero cambio di location estemporaneo però miralo abbiamo sempre la porta che adesso si sta aprendo rivelando un'Eva perché ragazzi era tutto quanto uno scherzo cioè cioè faceva parte così un po' della recita ma ovviamente i video di Rama sono la cosa più bella che ci sia su YouTube e continuerò a farli sempre così quindi da domani si disegna solo Eva e basta e ci godremo insieme a questi bellissimi speed drawing in compagnia quindi non perdiamo altro tempo e ci vediamo al prossimo video e ci vediamo al prossimo video e ci vediamo al prossimo video e ci vediamo al prossimo video